... Sì! fino a 0.5 io ho avrebato prima però quando vi il video si è mi avrebbe flaccato quando vi il video si è un po' cotto il video adesso è un po' cotto la voce è un po' cotto la voce è un po' cotto la voce è un po' 360 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.